Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, la tanto attesa a neve è ancora ben lontana dall'imbiancare la provincia di Latina, così come sta avvenendo nel resto d'Italia e in alcune zone collinari del Basso Lazio. Ma così come è avvenuto in questo territorio poco più di un anno fa, era il 17 dicembre del 2010. Giusto qualche fiocco è venuto giù nei paesi di Bassiano, Coria, Sezze. In quest'ultimo caso il primo cittadino ha deciso la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Qualche fiocco anche nella zona di Castello onorato a Formia. A norma è stata invece chiusa la strada di accesso al paese in via precauzionale a causa della caduta di alcuni massi. Per il resto pioggia in tutto il territorio, da nord a sud, lungo le località della costa, Sabaudia, San Felice e Terracina. Mare calmo, ma il cielo è ancora molto grigio. Si prevedono dei peggioramenti. Pioggia abbattente nel capoluogo dalla notte e anche nel sud pontino. Le immagini si riferiscono alla costa di Levante e a Gianola di Formia. Si muove intanto la macchina dell'emergenza a maltempo. Il prefetto Antonio D'Acunto ha convocato il Comitato Operativo per la Viabilità con la partecipazione delle Forze dell'Ordine e di tutti gli enti interessati. L'insidia maggiore è per la gelata notturna che potrebbe concentrarsi in tratti di strada soprattutto sui Monti Lepini. La protezione civile comunque prevede per i prossimi giorni neve anche a bassissima quota e un ulteriore abbassamento delle temperature che però fino ad oggi hanno generato solo ghiaccio. La prefettura raccomanda di usare prudenza sulle strade se necessario anche con l'utilizzo di catene. Sulla costa sono previsti venti forti di burrasca da nord-est. Pioggia fitta e nubi basse. Aprilia questa mattina si è svegliata così senza neve. È stata scongiurata quindi l'ondata di grande freddo che è stata prevista nei giorni scorsi. Il Comune di Aprilia si è organizzato, sta monitorando comunque la situazione per scongiurare ogni emergenza. in stretto collegamento con la protezione civile, vigili urbani, per far fronte ad ogni emergenza. Sono stati consegnati dei sacchi di sale per evitare che le strade si ghiaccino e quindi la viabilità al momento scorre regolarmente. Così come tutte le attività quotidiane, le scuole infatti sono rimaste aperte. Il Sindaco di Aprilia non ha provveduto a demanare nessuna ordinanza. Le prossime ore saranno importanti e comunque tutto è sotto controllo.